Tre poltrone acquistate dal reparto con i fondi destinati alla ricerca per pazienti disabili, soprattutto anziani, con disturbi del comportamento come Alzheimer o demenza senile. Sono le Culla Care che da qualche giorno sono utilizzate nel reparto di geriatria al Nuovo Sant'Anna di Kona. Sono due tipologie di pazienti che noi vediamo sempre più spesso all'interno della nostra unità operativa e che richiedono molta attenzione, molte cure. Nelle dotazioni standard delle unità operative non è previsto un ausilio di questo tipo e quindi ci siamo dati una priorità nell'utilizzo di fondi di ricerca e questa era una priorità legata proprio alla miglior cura possibile e assistenza possibile al paziente. Quindi per noi è apparso subito una priorità e abbiamo acquisito queste tre poltrone che ci daranno sicuramente una mano nell'assistere meglio i pazienti. La disabilità nei pazienti ricoverati, soprattutto anziani, è sempre più crescente. In geriatria, dove nelle 23 stanze ci sono 42 posti letto, l'età media è arrivata a 85 anni e l'assistenza diventa multipla e complessa. Sono pazienti che hanno delle disabilità motorie precedenti all'ingresso in ospedale, per cui diventa difficile sistemarli in poltrone standard, diciamo, quelle che sono in dotazione ai normali reparti di degenza. Con questi ausili noi riusciamo ad accomodare i pazienti in posizioni tali che risultino confortevoli per il paziente e adeguate anche alle capacità delle persone che li assistono a mobilizzarle. Contenere la disabilità nel momento in cui il malato è più fragile, per questo la poltrona è polifunzionale e il paziente vi può rimanere comodamente anche per molte ore. L'ausilio è basculante, c'è una poltrona che riproduce un po' la posizione fetale delle persone anziane e questa è una posizione che noi vediamo molto spesso nei pazienti allettati e che impedisce la mobilizzazione in poltrona. La polifunzionalità è data anche dalla disponibilità di rotelle nella poltrona che permette di mobilizzare quindi un paziente con queste caratteristiche anche di fuori della stanza di diligenza, quindi dare un minimo di socializzazione, permettere alla famiglia di accompagnarlo anche fuori della camera. Ma la poltrona polifunzionale diventa anche un aiuto per infermieri e operatori sociosanitari. Un paziente che non ha tono muscolare per cui nelle poltrone standard risulta molto spesso difficile da aggiustare e molto spesso scende nella poltrona, in questa poltrona vista la capacità di essere basculante e di permettere una posizione quasi semi sdraiata, questo consente al paziente di avere un comfort tale da non muoversi e non rischiare di cadere dalla poltrona che è questo l'altro grosso problema che ha il personale. Quindi un maggior confort per il paziente ma anche la possibilità di non dover fare una sorveglianza continua e ossidua a questi pazienti che è questo che impegna moltissimo il nostro personale e che deve fare moltissime altre cose chiaramente. Uno screening nelle scuole superiori di Ferrara nell'ambito della giornata mondiale del Rene è quello che una equip del reparto di nefrologia dell'ospedale Sant'Anna effettuerà il 13 marzo in alcune classi quinte del liceo delle scienze sociali Giosuè Carducci di Ferrara. Obiettivo parlare delle malattie renali che possono essere presenti anche in età giovanile. Perché la malattia renale è molto spesso una malattia silente, una malattia della cui presenza si fa sentire sempre molto tardi quando ormai la malattia è già avanzata. Quindi parlare di insufficienza renale cronica avanzata è sempre non bello, non bello perché abbiamo già perso del tempo. Quindi fare prevenzione significa andare a vedere o a dividenziare quelli che sono i segnali più precoci della malattia renale. Una banalità può essere l'esame urine, costa poco, non fa male e soprattutto si fa presto a farlo. Questo è quello che vogliamo portare nelle scuole, la misurazione della pressione arteriosa e un esame urine. Perché i giovani? Perché i giovani difficilmente e fortunatamente hanno dei problemi di salute, sono una categoria di persone che comunque sono un po' preclusi da quello che è la manifestazione precoce di malattie così importanti. Ma è proprio lì che l'andare a scovare invece quelli che sono gli elementi così precoci di malattia può invece salvaguardare la funzione del rene di questi ragazzi. Ed è per questo che il nostro interesse quest'anno si è rivolto proprio alla popolazione più giovane. Stili di vita, alcol, fumo e droghe? Ora parlare di salute in senso lato è sempre parlare anche di stili di vita. Quindi parlare di malattia renale significa anche parlare di stili di vita. Perché comunque il fumo ha un'importanza fondamentale in tutte le malattie e il rene, che uno degli organi più vascolarizzati in assoluto risente chiaramente di questo stile di vita. Ma anche quello che può essere l'obesità, quindi la dislipidemia, quindi lo stato ipertensivo di cui appunto parleremo con i ragazzi e anche dare dei messaggi proprio di formazione di quello che è uno stato di salute buono da perseguire negli anni. Grazie a tutti.